La ristampa dell'opera di Monsignor Benigni Naturalmente sono corso a comprarne una copia Il mio desiderio è presentarvi questo libro ma non vorrei usare le mie parole Visto le bellissime parole che ha usato Don Francesco Ricossa nella prefazione Quindi vi leggo parte della prefazione e poi parte della quarta di copertina Dice Don Francesco Ricossa Il centro librario Sodalizio ha deciso di ristampare Storia sociale della Chiesa La principale opera di Monsignor Umberto Benigni Si tratta per i nostri limitatissimi mezzi di un impegno gravoso Di cui andiamo però orgogliosi e che speriamo di riuscire a portare a termine Con il contributo e l'aiuto dei nostri lettori Cominciamo a pubblicare infatti per il momento il primo dei sette volumi Che compongono l'opera di Una vita di Monsignor Umberto Benigni Ovvero del principale collaboratore di San Pio X nella lutta contro il modernismo Storia sociale della Chiesa fu pubblicata dall'editore milanese Vallardi Dalla fine del 1906 Quando il giovane prelato entrò a far parte della congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari E fino al 1933 Quindi un'opera pubblicata a partire dal 1906 E fino al 1933 Interrotta solo dalla morte dell'autore a Roma il 27 febbraio 1934 Alla fine del nostro lavoro di riedizione Contiamo di pubblicare come allora sette tomi così strutturati Primo volume La preparazione dagli inizi a Costantino Edizione del 1906 Che è poi il primo volume E questo che è stato ristampato appunto dal centro librario Sodalizium Volume secondo Da Costantino alla caduta dell'impero romano Tomo 1 1912 e tomo 2 1915 Volume 3 La crisi della società antica Dalla caduta alla rinascita dell'impero romano Volume 4 L'apogeo Tomo 1 1922 Tomo 2 1930 Volume 5 La crisi medievale 1933 Nel piano dell'opera L'autore, cioè Monsignor Benigni, si proponeva di trattare Di sette periodi della storia della Chiesa Che non ha avuto modo pertanto di pubblicare due volumi Quelli relativi al sesto periodo Epoca moderna Periodo dell'antico regime Dalla riforma alla rivoluzione 1517-1789 E al settimo periodo Epoca moderna, periodo della rivoluzione E della rivoluzione francesa oggi eccetera Si domanda Don Francesco Ricossa Che senso ha pubblicare oggi, nel ventunesimo secolo Un'opera iniziata più di un secolo fa? E' pergiunta incompiuta, attenente alla materia, la storia Che, al contrario della teologia e della filosofia, scienze speculative E' calata nel contingente e nel continuo approfondimento delle fonti Il fatto è che la storia sociale della Chiesa, come tutte le grandi opere E' ancora attuale ai nostri giorni L'attualità di quest'opera non è dovuta al ruolo, pur importante Svolta da Monsignor Benigni nel mondo accademico Ma anche dal fatto che il nostro autore poteva unire, cosa non comune L'esperienza dell'uomo di Stato, avendo lavorato in segreteria di Stato La verba del giornalista, la fede del sacerdote La cume poliziesco del creatore della moderna intelligence vaticana E chi più ne ha, ne metta Quante personalità in un solo uomo Monsignor Benigni si proponeva di contribuire, nel campo della storia ecclesiastica Alla realizzazione del programma del pontificato di San Pio X Restaurare tutto in Cristo E questo, particolarmente, nello studiare quello che egli chiama L'impero della Chiesa Ovvero sia, ovvero sia l'influenza della Chiesa nella vita sociale Della umana civiltà La sua era allora, e lo è ancora oggi Un'opera estremamente moderna Cosa apparentemente paradossale In un dichiarato antimodernista, appunto, come un signor Benigni Moderna nel proporre non un manuale di storia ecclesiastica Come ve ne erano tanti Ma una storia sociale della Chiesa Dal punto di vista, cioè, dell'influenza della Chiesa Nella vita politica, etico-giuridica ed economica della società Moderna nell'accogliere pienamente il metodo critico Nella storia, anche ecclesiastica Sicura che una sana critica storia non sarebbe mai stata contro la Chiesa E la verità, ma a suo favore Moderna, infine, nello stile inimitabile, ironico e arguto dell'autore Quindi ci sarebbe altro da leggere Io aggiungo semplicemente che la ristampa di quest'opera mancava Perché è un'opera davvero straordinaria Io la consiglio ovviamente di leggerla sia ai cattolici ma anche ai non cattolici Perché scoprirete una storia della Chiesa molto lontana da quella che potete immaginare Molto lontana da quella che è arrivata a noi, dai banchi di scuola E non solo dai banchi di scuola, purtroppo Scopriremo una storia della Chiesa che vale la pena veramente conoscere E scopriremo tutto ciò che la Chiesa ha fatto per la società Grazie e alla prossima E ricordate, storia sociale della Chiesa Volume primo, centro librario, sodalizio Alla prossima e grazie Grazie